La seconda edizione del Festival delle Birre d'Abruzzo sarà un evento da degustare da venerdì 22 a domenica 24 novembre prossimi alla Camera di Commercio Chieti Pescara in via Pomiglio nel capoluogo Teatino. Un evento promosso dalla regione Abruzzo tramite Arap, l'occasione è quella di valorizzare uno dei prodotti tipici abruzzesi di maggior consumo, sottolineandone le peculiarità e le particolarità anche grazie al coinvolgimento delle aziende produttrici. Il Festival si articolerà in spazi espositivi di vendita, food truck, momenti istituzionali e convegni dedicati a attività attrattive, ludiche, sempre improntate alla valorizzazione del prodotto e alla sua storia masterclass dedicate al prodotto stesso. L'evento è destinato alle imprese abruzzesi operanti nel settore della birra artigianale. Saranno nove i birrifici che parteciperanno al Festival Vincenzo Di Cecco, primo firmatario della legge di promozione del settore, Presidente Commissione Bilancio Regione Abruzzo. Sì, esattamente questa legge è nata nel 2021, è stata approvata non limitata dal Consiglio regionale. Oggi presentiamo la seconda edizione, l'anno scorso c'è stata la prima a pescare. Come avevamo detto e come è anche previsto nella norma, questo sarà un festival itinerante, quindi quest'anno stiamo a Chieti. Poi nei prossimi due anni saremo all'Aquila e a Teramo. Ovviamente l'obiettivo è quello di valorizzare un settore che negli ultimi anni è dimostrato di essere in forte crescita, che all'interno contiene un diverso numero di migliaia di impiegati, di dipendenti su tutto il territorio nazionale. Abruzzo è una regione che ha tanti birrifici, che si sta anche contraddistinguendo a livello internazionale con premi importanti. Il vicepresidente della regione, Emanuele Prudente, nonché assessore all'agricoltura, afferma di voler valorizzare i prodotti enogastronomici del Abruzzo anche attraverso eventi come questo. Questo festival sulla birra, la seconda edizione, ha proprio questo obiettivo, tramite le nostre aziende che i nostri birrifici, che raccontano la storia, la tradizione, nella cultura di un territorio d'Abruzzo che è una terra unica, all'interno di un progetto, come dicevamo, di internazionalizzazione, di una visione complessiva di promozione dei prodotti e anche del territorio, dove un ruolo fondamentale lo avranno anche qui le scuole, perché saranno loro coloro i quali saranno gli ambasciatori del futuro dell'Abruzzo e dei nostri prodotti abruzzesi.